Questa è la mia disperazione Dai come va? No va bene dai Allora ci siamo Però manca ancora un po' di lavoro Finiremo domani E niente La consegna di questa settimana Io non so niente È la realizzazione di un'applicazione Con un video promozionale Al fine di orientarsi a Gardaland Siamo stati a Gardaland Per fare dei video Che ci sono serviti poi Per realizzare i nostri video promozionali Al fine di promuovere l'applicazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti